Il nome di Miraglia è uno dei tanti nomi di martiri di sindacalisti che in quel periodo vennero uccisi in Sicilia. Noi oggi a Vesper 2.0 parliamo di questo importante appuntamento per quello che significa per la città di Sciacca, per la naturalmente riaffermazione della sua storia e per naturalmente riflettere anche sul significato delle battaglie di Miraglia che sono battaglie ancora molto attuali perché la mafia è cambiata però non sono cambiati i sistemi di intimidazione e di violenza. Ne parleremo con i nostri ospiti, vi annuncio che parleremo anche di un importante progetto portato avanti dall'Istituto Tecnico Commerciale Don Michele Arena di Sciacca, un concorso a livello nazionale che punterà proprio sullo sfondo l'immagine di Nico Miraglia a valorizzare ulteriormente questo percorso importante, quello della lotta alla mafia dal punto di vista culturale, non soltanto dal punto di vista del lavoro che viene fatto dalle forze di polizia. Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto il nostro invito, cominciamo col presentarli, naturalmente il Presidente della Fondazione Accursio Miraglia il Professore Nico Miraglia, accanto a lui la Professoressa Antonella Montalbano docente dell'Istituto Tecnico Commerciale Don Michele Arena, il Comune di Sciacca rappresentato in questa trasmissione dall'assessore del Comune di Sciacca Salvatore Monte e accanto a lui il Professor Salvatore Sanfilippo, storico, autore di numerosi libri e anche naturalmente di saggi in cui la figura di Miraglia è stata diciamo centrale rispetto anche al contesto storico in cui Sciacca nel 1947 viveva. Cominciamo dal Professore Miraglia, intanto a me piace molto spesso chiedere diciamo punti di vista proprio prettamente umani e voglio partire da questo, cosa significa per voi, per la famiglia Miraglia questo settantesimo anniversario? Beh, quello che significa ogni anno il 4 gennaio, cioè il ricordo di parte, il ricordo familiare di Accursio Miraglia, il ricordo di un uomo che ha voluto dedicare la sua vita agli altri, l'ha dedicata ai poveri, l'ha dedicata ai marinai, ai contadini, a tutte quelle persone che avevano bisogno di lui. E noi, formati da quel personaggio che era Accursio Miraglia, cerchiamo, per quello che è possibile, con tutti i nostri difetti, di portare avanti sempre questa linea sociale e morale. Cioè a noi interessa curare i malati, interessa avvicinare i poveri, interessa aiutare chi ha bisogno di un aiuto sia scientifico che sociale che morale. Questo è il nostro atteggiamento, che non è solo il 4 gennaio, ma che dura tutto l'anno, ma che il 4 gennaio si concretizza con la bella occasione di vedere le istituzioni, le forze dell'ordine e i saccenzi che ricordano non tanto Accursio Miraglia, quanto quello che fece Accursio Miraglia. Tant'è vero che quest'anno, grazie al Comune di Sciacca, abbiamo la possibilità di dedicare non il 4 gennaio, ma il 2017 ad Accursio Miraglia e principalmente a tutte le vittime poco conosciute della mafia. Infatti per esempio in quello che è il nostro concorso che grazie alla Preside Gabriella Burcolele siamo riusciti a organizzare in tutta Italia, in provincia di Agrigento abbiamo comunemente deciso di ricordare Miraglia, Don Pino Puglisi e Alberto Giacomelli, un magistrato sconosciuto che venne ucciso dalla mafia perché aveva firmato un decreto di esproprio delle proprietà di Gaetano Riina, fratello di Totò Riina. Abbiamo avuto il piacere di avere il figlio, che oggi è un sacerdote e vive a Imola, che si è commosso parecchio e che ci ha detto a me personalmente che l'ho contattato per prima, è la prima volta che qualcuno mi chiede di parlare di mio padre. Vengo e sono felice di essere con voi e mi sento vostro fratello e mi sento accanto a voi in tutte le lotte che voi porterete avanti. Questo è quello che a noi interessa. Questo tentativo, da tanti anni lei, con la fondazione, anche con la fondazione Non Solo Portella, vorrei ricordare la memoria di Giuseppe Casarrubbia, che purtroppo non c'è più. Ecco, il tentativo della conoscenza, di fare in modo che soprattutto le giovani generazioni conoscano quello che sono stati questi personaggi. Miraglia per Sciacca, ma evidentemente Rizzotto per Corleone e tanti altri personaggi. Giuseppe Casarrubbia per Partenico, Placido Rizzotto per Corleone. Ecco, questo tentativo secondo lei, lo chiederò naturalmente anche alla docente, al preside soprattutto, questo tentativo è riuscito, sta riuscendo oppure alle volte vi rendete conto che è un po' complicato far passare un determinato messaggio? Sarebbe molto più semplice se avessimo dei governi diversi da quelli che abbiamo noi. Che cosa intende dire? Che i nostri governi non hanno nessun interesse a far conoscere la vera storia, di molti caduti di mafia, non solo dei sindacalisti. Noi abbiamo Attilio Manca che secondo il nostro governo è morto per un overdose, sappiamo che non è così. Noi abbiamo Antonino Agostino ammazzato dal mostro, un poliziotto. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori, il padre è quel signore che si è fatto crescere la barba. Vincenzo Agostino, quello che ha detto fino a quando non si conoscerà. Io ho detto un giorno ti calpesterai la barba, ma non avrai giustizia perché purtroppo... Si parla di un coinvolgimento dei servizi segreti in quella vicenda. Sì, 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 ma ripeto, anche io in questo lavoro che stiamo portando avanti... Lei dice che la sensibilizzazione è complicata anche dal fatto che il governo non riconosce... Ecco, che il governo non riconosce le vittime di mafia... Dovrebbe riconoscere la sua adesione in parte alla mafia. Certo. E non è semplice. Parleremo tra poco di questi argomenti. Vorrei chiedere al professor Sanfilippo, io mi piace essere un po' didattico in questa trasmissione, vi chiedo scusa. Vorrei dire a chi sta seguendo da casa, quei pochi che non lo sanno, che il caso Miraglia è uno dei casi giudiziari più controversi e più bizzarri della storia del nostro paese. Perché ricordiamo che gli assassini di Accurso Miraglia confessarono, poi però ritrattarono. C'è qui una figura importante che è quella del commissario Cataldo Tandoi, che dopo la ritrattazione si dissero queste persone che erano state torturate dalla polizia. Il commissario Tandoi disse se così è processateci perché la polizia siamo noi, però fu provato che non ci fu alcuna tortura, quindi da quel momento cosa bisognava fare? Bisognava riaprire naturalmente il processo. Nulla di tutto questo fu fatto, quindi siamo di fronte ad uno dei casi giudiziari assolutamente bizzarri che si sono verificati nella storia, non di Sciacca, nella storia d'Italia. Preside Sanfilippo, qual è una sua riflessione su questo? Che il fatto di Miraglia sia nazionale è un fatto molto elementare, perché già i giornali del tempo, tutti i giornali del tempo ne hanno parlato, tutti i grandi personaggi del tempo hanno sentito e hanno partecipato. Va bene? Certamente il momento è molto critico, è molto delicato, cioè Miraglia è importantissimo per il fatto in sé, come poteva essere Verro di Corleone, come potevano essere tutti gli altri, ma il fatto di Miraglia, che è avvenuto nel gennaio del 1947, ha delle implicazioni nazionali e internazionali importantissime. Cioè che significa il 1947? Il 1947 significa che lo Stato italiano si stava costituendo per avviarsi ad una repubblica democratica del massimo livello, volendosi affiancare alle migliori nazioni democratiche mondiali, come l'America per esempio. E allora il fatto di Miraglia quindi costituisce, influenza e viene influenzato dai fatti che avvengono. Ma quali sono i fatti che avvengono in quel momento? E pensate, il 1946 è il referendum di monarchia e repubblica e nel 1946 è a Sciacca. Io ero piccolissimo davanti alla cazza, io vedevo sfilare, sfilavano 10.000 contadini con le loro famiglie, con i carretti, a via San Cataldo, andavano in San Michele e poi sono scese, sono andato al campo sportivo dove a Curso Miraglia ha fatto il discorso conclusivo. Quindi cioè siamo nel... questo è ottobre-novembre 46, erano i primi giorni di scuola mi ricordo. E allora che cosa c'è da fare? 46, poi 47, quindi abbiamo il referendum, poi ci sono subito dopo ci sono le amministrative dove la sinistra, dalle forze sinistra socialisti e comunisti hanno avuto una stragrande maggioranza che non hanno ottenuto mai nella storia d'Italia. E grazie all'influenza di chi? Se c'era stato il delitto Miraglia e poi a maggio c'era stato la... ma ancora prima di maggio questo. Quindi bisogna pensare che il delitto Miraglia è stato proprio quello che ha influenzato tanti altri fatti. Fino al 47 che abbiamo altri fatti, cioè abbiamo le regionali. Nelle 47 aprile. Insomma, il contesto è politico. Aprile abbiamo le regionali. Febbraio, marzo, marzo, aprile, dopo due mesi, dopo 60 giorni, abbiamo le regionali. Quindi sono fatti importantissimi che influenzano la storia d'Italia. Dal 45 al 60, con la morte di Tandui, si è formata, no? Qua Miraglia c'entra, come si dice, storicamente, si è formata l'Italia. Cioè erano anni... Il momento è anche quello in cui, dopo il governo di unità nazionale, la democrazia cristiana rompe col PC e gli Stati Uniti dettano una linea diversa. Su questo Casarrubbi ha fatto delle scoperte importanti, andando a Washington, insomma, a recuperare documenti molto significativi. La fermo un attimo, professore Sanfilippo. Professore Montalbano, prima di parlare del concorso, la sua riflessione è sulla conoscenza, perché anche sulle cose che dice Sanfilippo, i ragazzi sono interessati? Sì. Oppure, sì, va bene, se stimolati, sì, perché voi... Però dico, bisogna sempre stimolarli, questi ragazzi. Sì, i ragazzi, intanto, sono, diciamo, poco sensibili nei confronti della storia. Questo è un dato, purtroppo, in negativo, ma è un dato che si conosce. Per questo, forse, dovremmo fare molto in questo senso, ma anche come politiche di tipo scolastico, che, insomma, dovrebbero valorizzare un poco di più la storia, questo tipo di discipline. Se stimolati, i ragazzi rispondono. Come no? Certamente, ai ragazzi bisogna narrare. Questo, per esempio, è il riferimento che faceva prima il professore Miraglia, la presenza di Don Giuseppe Giacomelli nel nostro istituto per il primo appuntamento del progetto di cui adesso parliamo. Ha fatto vedere proprio come i ragazzi siano stati capaci di stare due ore ad ascoltare e poi sono pure intervenuti, perché quando c'è la narrazione, questo, secondo me, è il metodo migliore per poter arrivare a raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda la storia in se stessa, i ragazzi non la conoscono e questo è un motivo che mi ha indotto, conoscendo bene la figura di Miraglia, per via personale, perché mio padre me ne parlava, invece di raccontarmi le favole, mio padre mi parlava di Miraglia quando ero piccola e questo significa che sono cresciuta con questa figura che era di tipo familiare. Poi, da adulta, per esempio, amando molto la poesia, ho scoperto il poema del nostro concittadino Ignazio Russo e questo mi ha messo... Miraglia libraccianti. Miraglia libraccianti, che tra l'altro è assolutamente sconosciuto nelle scuole. Io spesso faccio con le colleghe di lettere, che insegno religione, con le colleghe di lettere facciamo spesso insieme questo tipo di attività, proprio per fare conoscere ragazzi, magari lavori nostri che i ragazzi non conoscerebbero diversamente. E quindi come nasce l'idea di questo concorso? Il professor Miraglia ne faceva cenno. Sì, l'estate scorsa ci siamo incontrati con Nico per caso e ho saputo che era il settantesimo quest'anno. Siccome io vengo, come sapete, dall'altro progetto che è durato tre anni nella mia scuola e che avevo ideato per il progetto Cronio, abbiamo ideato insieme al Comune, al Sessore Monte, abbiamo lavorato insieme per tre anni su questo progetto, abbiamo fatto venire gli speleologi da Trieste. I ragazzi anche questa volta non conoscevano nulla del nostro Cronio. Quindi avendo concluso il precedente progetto mi è sembrato opportuno, visto l'amore che ho per la conoscenza storica di questa figura, di proporlo alla preside. La preside ha sposato immediatamente questa nuova iniziativa. In cosa consiste? Allora, intanto è un progetto della nostra scuola che è aperto come sezione B agli alunni che faranno iscrizione nelle terze e quarte classi e già conoscono, diciamo, dovrebbero essere aperte alla storia locale e alla conoscenza della storia locale. E poi in questo progetto avremo, diciamo, una prima fase in cui i ragazzi incontreranno i testimoni, tra cui c'è Comiraglia. Facevamo riferimento a Giacomelli, al figlio che è venuto da Bologna, da Imola. Incontreremo il giornalista Dino Paternostro, Placido Rizzotto, il nipote del sindacalista ucciso. Verrà un magistrato, ci sarà uno storico professore universitario con cui la scuola sempre mantiene stretti rapporti di alleanza, diciamo, di tipo pedagogica. E poi incontreremo anche due scrittori che recentemente hanno realizzato, adesso stanno andando in giro in Italia per fare conoscere, l'ultimo libro su Don Pino Puglisi, ricordiamo anche la chiesa e i suoi martiri di mafia. E per cui ci sarà questa prima fase di conoscenza con i testimoni. Poi passeremo alla seconda fase dopo l'iscrizione che è prevista a livello nazionale dal bando, che si chiuderà il 31 gennaio. Quindi con l'iscrizione di tutte le scuole, perché ecco, mi ha dimenticato di dire che c'è anche l'apertura, una sezione A per le scuole a livello nazionale. Abbiamo fatto avere il bando tramite gli uffici scolastici regionali. Quindi sarà un concorso per tutta Italia. Tutta Italia. Qui c'è la possibilità per le scuole che aderiranno al progetto di poter inserire i loro martiri. Cioè, oltre alla figura di Miraglia, a cui è intitolato il concorso, possono studiare, analizzare i loro martiri, i loro personaggi importanti che hanno lottato contro la mafia. Perché ricordiamoci che la mafia è un discorso culturale e quindi purtroppo ogni territorio ha i suoi martiri. E quindi, se vogliono, possono adottare il nostro progetto, comunque mantenendo sempre la figura di Miraglia, che è conosciuta a livello nazionale e, come diceva prima, il preside a livello internazionale. Ecco, vorrei ricordare che adesso con la riforma della scuola, insomma, gli accorpamenti, l'itticito Michele Arena sovrintende anche al funzionamento dell'Ipsia. L'istituto di istruzione secondaria superiore. Esatto, e l'Ipsia è intitolato ad Accurcio Miraglia. Questo è stato un motivo in più per dare valore a questo... Una battaglia del professore Miraglia della città di Sciacca, vorrei dire, non solo del professore. Io vorrei ricordare una cosa. Quando parlate, e do la parola all'assessore Monte, il riscatto culturale, dove cultura significa conoscenza, dove cultura significa anche la personificazione di quello che ha fatto Miraglia. Miraglia era un artista, era un pittore, ed era anche presidente del Teatro Rossi. Quindi la cultura era naturalmente... Quindi cosa significa? Era anche poeta. Cosa significa questo? Il riscatto culturale. Quest'uomo lottava per affermare la conoscenza. Questo lo dico ai ragazzi, soprattutto a casa che ci ascoltano, chi è più grande conosce qualcosa di più della storia di Miraglia. E quando si dice Don Pino Puglisi, Don Pino Puglisi viene ucciso perché si mette in testa di togliere i ragazzi dalla strada per farli studiare, perché la mafia trova... E' passato per un eroe, ma in realtà Don Pino Puglisi faceva soltanto attività pastorale. Esatto. Fare andare i ragazzi a scuola significa riscattarli, fargli fare un passo avanti e quindi non fargli capire attraverso l'istruzione. Cioè togliere manovalanza alla mafia a partire proprio da questi ragazzi che frequentavano il centro della parrocchia. Assessore Monte, il professor Miraglia accennava questo anno miragliano, mi scuso se è questo neologismo, che comunque sciacca il dovere di commemorare oltre il 4 gennaio. Io innanzitutto vorrei fare una riflessione non da amministratore ma da trentenne e dire che la città deve dire grazie a Nico Miraglia perché in questi anni è stato talmente caparbio da riuscire anno dopo anno a far conoscere la storia del Curso Miraglia anche a chi materialmente non la conosceva per diverse ragioni. Cioè Nico negli anni ha fatto un'operazione di anche pedagogia nelle scuole, è andato a far conoscere la storia di suo padre, è riuscito a far comprendere un pezzo della storia d'Italia, un pezzo della storia della Sicilia, ma un pezzo della storia della nostra città che spesso, come diciamo, dimentica facilmente. E quindi sono io il primo a dire grazie perché per alcuni, per i più piccoli Miraglia è soltanto il monumento ancora in piazza Lazzarini che vediamo passando, mentre quello che è riuscito a fare lui è stato quello di coltivare nei ragazzi anche l'interesse verso un uomo che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo di questa nostra città. Con Nico c'è sempre un rapporto ogni anno legato al 4 gennaio. Quando materialmente, già un anno e mezzo fa, Nico accennava al fatto che arrivando il settantesimo bisognava dare una sterzata diversa, ovviamente siamo rimasti subito messi a disposizione per quello che si doveva fare. L'idea di un anno dedicato a Miraglia in realtà è un anno pieno di iniziative legate da un filo comune che è il ricordo, ma anche la prospettiva futura, cioè di ricordare per non dimenticare il sacrificio di tanti uomini che sono stati uccisi in maniera vigliacca dalla mafia e quindi di percorrere un anno insieme, tappa dopo tappa, dove l'obiettivo non è soltanto, come dicevo prima, ricordare, ma tramite il supporto degli istituti scolastici di portare i ragazzi a far comprendere quella che è la storia di Miraglia. Ovviamente questo lo si farà in maniera molto articolata, Nico è tra le altre cose oltre al Presidente della sua fondazione, è uno che ci mette passione oltre che ovviamente un affetto personale e familiare e quindi di conseguenza si sta cercando di calendarizzare una serie di eventi che partiranno il 4 gennaio ma che ci accompagneranno poi per tutto l'anno. È ovvio che ci saranno iniziative visibili, ad esempio l'altro giorno abbiamo iniziato a ipotizzare anche delle installazioni da fare sia a Piazzetta Lazzarini sia al cimitero proprio per materialmente focalizzare l'attenzione perché alle volte sembra stupido ma anche un segno che cambia la morfologia di una villetta, di uno scorcio di città, cattura l'attenzione del passante e il passante guardando inizia a riflettere. Siccome, e diceva bene Antonella, nelle scuole la politica scolastica andrebbe un po' forse attualizzata perché noi spesso studiamo, d'accordo, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, va bene, ma dovremmo conoscere un po' più la nostra di storia e non andare impreparati poi ai convegni, alle relazioni, sol perché materialmente perdiamo quelle due ore di scuola. Esatto, io invece ho visto per esempio nell'ultima manifestazione che si è organizzata al Teatro Popolare, Nico se ti ricordi, Nicola allestita in modo tale che i ragazzi avessero un minimo di interesse, cioè che oltre al ricordo c'era la buona musica, c'erano i pezzi recitati, bisogna anche attualizzare il modo di fare scuola perché altrimenti se confiniamo tutto in un convegno è chiaro che i ragazzi non seguono. Detto questo le iniziative devono essere tante, devono coinvolgere tutta la città e non soltanto le scuole e devono secondo me portare anche a galla degli aspetti che non conosciamo. Cioè io ho sentito questi tre minuti, il professore Sanfilippo, e mi sono avventurato in un racconto storico che poi si intreccia con altre situazioni in Italia che noi magari non conosciamo bene. Quindi siccome non ci dobbiamo limitare soltanto alla commemorazione, perché la commemorazione del 4 gennaio che è fondamentale e che rientra tra quegli impegni istituzionali che ogni amministrazione deve avere, dobbiamo secondo me uscire fuori e iniziare a conoscere a Curso Miraglia per quello che era, non soltanto adesso per il ricordo che abbiamo al cimitero, che è il luogo della memoria, che è il luogo dell'affetto, ma iniziare a conoscere l'uomo perché io non sapevo per esempio che fosse scrittore, che fosse poeta, Nico mi ha letto delle poesie, ho visto i quadri e non lo sapevo e ho 30 anni e mi posso addossare alla colpa di essere stato io un ignorante a non essermi informato bene, per carità, ma nessuno mai mi ha raccontato la storia di Miraglia. Quindi io quando sento Nico che progetta e racconta cerco di assorbire, quando sento il professore Sanfilippo cerco di assorbire pure, quindi che sia l'occasione anche per una crescita culturale della città e non soltanto legata alla commemorazione. Crescita culturale, il professore Miraglia dice bene, Monte c'è una passione personale da parte sua per ragioni ovvie, però nello stesso tempo Nico Miraglia da qualche tempo sta conducendo una battaglia per allargare il raggio d'azione, perché dice per esempio c'è una via a Sciacca importante, che è questa della perriera che si chiama, è intitolata alla memoria di Accurso di Miraglia, però ci sarebbero tante altre vie da poter intitolare ad altre vittime di mafia, non necessariamente di Sciacca, anche di altre città. Quindi questo per dire che c'è un progetto per allargare il raggio d'azione anche attraverso addirittura un disegno di legge regionale. Ce ne vuole parlare, professore? Sì, è un disegno di legge che nasce dall'invito che io ho fatto ai giovani, 4 anni fa se non ricordo male, e fra i tanti giovani c'è un nostro deputato giovane, Matteo Mangiacavallo. Deputato regionale. Deputato regionale, il quale venne e eravamo alla chiesa del Sacro Cuore e grazie al prete abbiamo avuto la possibilità di ascoltare anche le storie di Filippo Gebbia, le storie di Michele Ciminisi, sono altre vittime innocenti di mafia. Finita la messa, Matteo, che era un mio allievo, dice, professore, una cortesia, noi deputati regionali del nostro movimento, siamo tutti giovani, sconosciamo la storia della Sicilia, sconosciamo i caduti di mafia, perché nessuno ce ne ha mai parlato. Le dispiacerebbe, contattando tutti i suoi amici, i familiari vittime di mafia, di venire in assemblea a parlare con noi delle vostre storie, in modo tale che noi da siciliani possiamo conoscere una vera parte della Sicilia che ci è sconosciuta. Siamo andati lì, c'ero io, c'era Antonella Azoti, c'era Giuseppe Casarubbea, c'era Giuseppe Ciminisi, eravamo in molti. Alla fine il gruppo di Movimento 5 Stelle ci ringraziamo, ci avete fatto conoscere una parte della storia e una parte purtroppo delle cose orrende che succedono in Sicilia che noi erano completamente sconosciute. Cosa possiamo fare per voi? Ha detto guarda la cosa più semplice, che io ho avuto sempre il pallino di volerla realizzare, d'accordo anche con Luigi Ciotti, attenzione. Presidente dell'Associazione Libra. Sarà a Sciacca il 12 gennaio, ve lo anticipo. Allora, se dice questo dobbiamo dire che il 4 ci sarà il segretario generale della CGL, Susanna Camus. Grazie alla CGL Fly che da sempre è accanto a Nico Miraglia, nella persona di Franco Colletti, che oggi non è qui perché c'è, hanno dovuto fare immediatamente una riunione a Palermo della CGL regionale e nazionale e quindi è dovuto andare lì. Ripeto, abbiamo cercato di formare questa legge, questa legge aveva 4 articoli. Dico aveva perché siamo riusciti per adesso, perché molto gentilmente il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che è il deputato di Ribera Cascio, ci ha invitato e abbiamo parlato con le due commissioni, quella antimafia e quella delle istituzioni, per vedere di concretizzare questa legge. Cosa proponeva questa legge? Che cosa propone? Articolo 1, che visto che sui 1200 nomi che leggiamo ogni anno il 21 marzo con Luigi Ciotti, quasi 900 sono siciliani, che anche la Sicilia abbia la giornata della memoria. Il nostro Presidente Crocetta ha fatto uso e abuso delle giornate della memoria, l'ha creato contro il bullismo, l'ha creato per gli immigrati, continuano a dimenticarsi i familiari delle vittime di mafia e i caduti di mafia. Quindi abbiamo cercato di ricordaglielo, visto che sotto questo aspetto ha una mente molto corta. Secondo articolo, noi chiediamo che si formi un forum di familiari vittime di mafia, che almeno due volte l'anno si incontri in modo completamente al di fuori dei sistemi giuridici e istituzionali della Regione, ma che si incontri con l'Associazione Regionale Antimafia, per parlare di antimafia, per aiutare loro a conoscere tutti quegli avvenimenti che non sono conosciuti e noi abbiamo solo la possibilità, ed è giusto che sia così, di suggerire, non abbiamo nessuna possibilità né di voto né di correzione a quelle che sono le iniziative dell'antimafia, ma per suggerire loro tutte quelle cose che noi sappiamo e che come stiamo vedendo qui con il ferrato uomo di cultura, che è il nostro assessore e con il preside, che molta della storia della Sicilia non è conosciuta. L'articolo 3. Il Borgo degli Eroi. Cos'è il Borgo degli Eroi? Noi a Sciacca, ma non solo a Sciacca, in tutta Italia c'è la via 25, la via 108, perché si arriva al punto che non si sa più che denominazione dare una via, ma noi abbiamo le vittime di mafia e sono in tutta Italia. Perché invece di mettere via dei Cretesi, via dei Limoni, non mettere via Epifanio Lipuma? In modo tale che i ragazzi, ma chi era? Via Guazzelli, chi era Guazzelli? Perché è morto? A me è stata istituita via Guazzelli. Sì, ma a Sciacca non esiste. È come a Sciacca in tutti gli altri paesi. Sarebbe bello che, ecco, questo sia uno dei tanti modi, come diceva l'assessore Monte, per far riflettere come quel pannello che verrà messo dove c'è il monumento di mio padre, per ricordare tutti i nomi degli altri caduti, passando in una via, sia il cittadino di quella città, sia il passante occasionale, legga determinati nomi che non si conoscono. Come non conoscevamo il magistrato Giacomelli, come molti non conoscono tanti altri personaggi. Per esempio uno dei personaggi a me legato emotivamente è il magistrato Saetta. Antonino Saetta, ucciso col figlio. Morto assieme al figlio, perché il figlio amava tanto stare con suo padre e viaggiava sempre col papà. La mafia non fa distinzione, ha ucciso padre e figlio. E la famiglia non vuole, perché non ce la fa a parlare di Nino Saetta e del figlio. Stefano si chiamava il figlio. Sì, uno dei nostri personaggi che volevamo discutere e proporre era anche Nino Saetta. La famiglia dice no, questa cortesia per noi è come se morisse un'altra volta, sia Stefano che Nino. Lasciateci nel nostro dolore. Però è giusto che la gente conosca Nino Saetta, conosca Stefano Saetta, conosca tanti, tanti altri. Paolo Buongiorno, per esempio, di Lucca, non ne parla nessuno. È stato uno degli ultimi sindacalisti ammazzati dalla mafia. Carmelo Battaglia, chi è? Nessuno. Carmelo Battaglia è l'ultimo di quella strage che io e Giuseppe Casarrubbe abbiamo dichiarato strage di Stato, che parte dal 46 e arriva al 60. Sono tutti i sindacalisti, i contadini, gli uomini della terra che sono stati ammazzati perché volevano una giustizia morale e sociale per tutti i poveri del territorio siciliano. Assessore Monte, questa cosa delle vie è una cosa che ci portiamo da anni. Qui a Sciacca non riusciamo. Ci sono comuni, Menfi per esempio, che ha dato maggiore risalto alle proprie personalità. Molte vie sono intitolate a personaggi della storia di quel comune. Noi invece siamo stati un po' più distratti. Qualche tentativo si è fatto di recente, però insomma… Però io posso dirvi che questo progetto dei borghi, del borgo, stamattina Nico me lo ha accennato. Sebbene sia legato a questo aspetto regionale che è già comunque in itinere da quello che ho capito, io credo che in questo momento ci sia al comune una cosa che funziona e sono contento di dire che c'è una cosa che funziona, che è la commissione toponomastica. Io sono dell'idea che la Fondazione Miraglia individua non le vie, perché questo lo facciamo fare all'ufficio, individua i nomi delle persone da valorizzare, da far ricordare e ci sono in questo momento a Sciacca tantissime vie non intitolate, non intestate a nessuno. Alla prossima commissione toponomastica metteremo all'ordine del giorno questa iniziativa che secondo me merita, perché ci sono vie 38, vie 42, verissimo, facciamo allora qualcosa che almeno resti. Quindi io sposo totalmente l'iniziativa, credo che sia meritevole di attenzione e sarà mia cura su invito della Fondazione, perché voglio che sia la Fondazione a spronare l'amministrazione e la commissione. Una volta arrivata la nota immediatamente io convocherò la commissione, perché credo che sia giusto portarla avanti e di individuare un'area che possa ospitare tutti questi nominativi e quindi trasformarlo, come diceva bene Nico, in una sorta di borgo che serva anche a commemorare queste persone. Quindi portiamolo avanti. Professoressa Montalbano, qual è la sua opinione sul tentativo della Fondazione di allargare il raggio oltre Miraglia? Io ne sono felice perché la storia si fa così. Io tra l'altro applaudo molto il fatto che Nico abbia gradito molto la nostra scelta di allargare lo studio che faranno i ragazzi e poi gli elaborati che produrranno, perché il concorso si basa su questi elaborati di tipo storico narrativo di tipo ipertesti multimediali, anche su altre figure. Non dobbiamo dimenticare che quest'anno, il 2017, si celebrerà anche il venticinquesimo dei giudici Falcone e Borsellino. Non parliamo di loro perché sono già abbastanza noti e conosciuti, ma ciò non di meno non toglierà la scuola la possibilità anche di fare riferimento. I giudici Falcone e Borsellino sono la nostra storia. Sono la nostra storia, così come è la nostra storia la storia del magistrato Livatino, così come è la nostra storia quella di Don Pino Puglisi. Ricordiamo che è stato beatificato dalla Chiesa perché è riconosciuto come martire, perché è stato ucciso in odio un fidei. Questo è il motivo per cui è stato beatificato, in odio alla fede. Non dimentichiamo che nella terra dei fuochi è stato assassinato Dondiana. Non dimentichiamo che anche in anni passati, in altre terre, per esempio l'Argentina di Papa Bergoglio, il San Salvador, vicende legate alle dittature del periodo, hanno provocato morti anche tra le fila della Chiesa. Uno per tutti, adesso anche lui è beatificato e canonizzato, Monsignor Oscar Romero, ucciso mentre diceva messa. E questo perché aveva deciso nel 1980 di stare dalla parte dei poveri. Lui viveva in mezzo alle baracche, disertava i palazzi dei dittatori. Una volta veniva chiamata questa scelta fatta da quella parte di Chiesa molto più vicina alle popolazioni, molto più prossima alle situazioni concrete della gente che viveva la povertà. agli ultimi. Non è un caso che Papa Francesco utilizzi questo modo di parlare proprio perché proviene da quella realtà e da quel modo di fare. E c'è qualcuno che storce il naso, che è Papa Francesco. C'è qualcuno che ancora storce il naso. Anche nel mondo della Chiesa, diciamo. Ma perché nella Chiesa esiste ancora qualcuno che è convinto che la Chiesa debba vivere di trionfalismi? La Chiesa è questa invece. Questa svolta è avvenuta già 50 anni fa col Concilio Vaticano II che ha sposato l'inculturazione della fede. Purtroppo c'è chi vuole continuare a vivere di trionfalismi, cosa che la Chiesa nei suoi massimi vertici oggi non vive più. Si vede che è faticoso il lavoro di Papa Bergoglio. Così come è faticoso il lavoro del nostro cardinale Don Franco Montenegro, fatto cardinale da Papa Francesco proprio perché porta avanti l'istanza dei grandi. L'accoglienza, il valore dell'accoglienza per quello che succede. Il significato che ha l'accoglienza per la nostra comunità. Professore Sanfilippo. Io riguardo avrei una cosa molto grave da dire. Prego. Cioè perché sempre si comincia e si finisce al che è importante, che è obbligatorio. Cioè la storia nazionale, la storia degli eroi, dei sacrificati. Ma qua noi abbiamo qua a Sciacca delle personalità a proposito della toponomastica che sono stati completamente trascurati, manco guardati. Cioè se si pensa che la strada a fianco alla matrice, la toponomastica di cui parla l'assessore, ha dato il nome, non ha dato il nome di Niccolò Licata, il più grande personaggio che ha avuto Sciacca. Che non è da meno di Saverio Friscia, a livello di Dosturzo. Questo non detto da Sanfilippo, ma detto da studiosi, a cominciare da Pace Alentini. Ci dica però di Tascallicamente, lo ricordi ai nostri telespettatori, chi era Monsignor Licata. Niccolò Licata è stato, scusi, non intendo sottovalutare l'opera di Miraglia, è stato Bernardino Verro, Lorenzo Panepinto, Miraglia e tutti gli altri insieme. Solo che lui non è morto perché allora si aveva un rispetto per l'arciprete. E' stato uno sciacchitano della Marina, Niccolò Licata, va bene, che io ancora manco perché ho la fotografia pronta che devo portare alla matrice perché la debbono mettere insieme agli altri, dato che ci sono tanti arciprete, tante parrine, ma non c'è Niccolò Licata. E per dire la verità ho dato appuntamento, aspetto di dare questa fotografia al dottore Ferrara per metterla alla, come si dice, all'insagristina. E quindi la memoria storica per lei va recuperata? Niccolò Licata è tutti insieme, cioè quelli di Sciacca, tutti cose insieme. Ha fatto la battaglia per la terra, ma l'ha fatto con quello che poi ha ammazzato a Cursio Miraglia, cioè bella parla piano. Lui, Niccolò Licata, combatteva a Ribera, è stata una vittima, è stata una vittima, qua noi siamo per Miraglia, ma quando noi parliamo di Miraglia è giusto che ne parliamo come è giusto che ne parliamo anche di Niccolò Licata. Ecco, lei da educatore cosa pensa del fatto che i ragazzi hanno bisogno di essere stimolati per conoscere la storia? Certo. Una curiosità spontanea, diciamo così, è più faticosa? Non è possibile, cioè che il fascismo, ancora sopravvissuto, che questi germi del fascismo, perché ci sono ancora parenti, ci sono amici, ci sono ancora ideologi, prevalgano sulla storia. Capito? Questo è Niccolò Licata, è questo ancora. Cioè che c'è un certo parente di Parrino che avversava Niccolò Licata e che non voleva che si mettesse Niccolò Licata. E questa commissione, o per ignoranza, o per tendenza, capito? Segue questa, cioè la cultura, voglio dire, la massima cultura di sciacca. Mi seguo o no? Questo è grave, non altro. Va bene? Assessore Monte, vediamo che quest'appello del professor Sanfilippo... Filippo, assolutamente, anche perché mi ha fatto conoscere ancora un'altra persona... Un'altra figura importante. L'ho legata e a lei... Ecco, le chiedevo, lei come educatore, come ex insegnante in pensione adesso, cosa pensa del fatto che i ragazzi abbiano bisogno di essere stimolati? Io penso... La professoressa Montalbano dice che bisogna narrare, bisogna essere più abili nel narrare ed appassionare i giovani. Lei cosa dice? Io penso che la scuola, io mi ci metto primo, non che è la scuola di oggi, la scuola di sempre, da quando ci sono stato io, voglio dire, va bene, non è in grado di affrontare questi problemi. Cioè bisognava tenere in vita personaggi tipo me, tipo il preside, come si fa in America, cioè in secondo ordine, che però intervenissero continuamente ad animare, a collaborare con la collega. Mi seguono? Sì. Perché, cioè in fondo, cioè io cominciava a interessarmi di queste cose dopo che sono andato in pensione. Voglio dire, voglio dire quindi che ci vuole un'età matura per entrare in questi... per completare il quadro, va bene? È molto interessante. Questo è il discorso. Cioè mio cugino, che è in America, New York, che conduceva, che reggeva cinque cliniche a New York vicino, cioè ora dopo che è andato in pensione, non è stato mandato in pensione, capito? Ha fatto un altro lavoro da codiuvare. Io vedo un sacco di gente matura che non deve essere messa fuori gioco completamente. Allora, noi dobbiamo ricordare Accursio Miraglia, lo faremo naturalmente dal 4 gennaio in poi, posso dirlo, personalmente dal primo gennaio, voglio dire che è una provocazione. L'insegnamento più importante, io ricordo che Nico Miraglia qualche tempo fa, cosa le rimane di Miraglia, cosa le rimane di suo padre? Lei mi disse, mi rimane per esempio il fatto che io, quando ero ragazzino, giocavo e mi sono ritrovato con il figlio di colui, che insomma fu il discorso mandante dell'omicidio Miraglia, e non aveva colpa lui, e quindi non abbiamo avuto, anzi... Senti, racconto a tutti questa bella storia. E questa è una cosa straordinaria secondo me. Sì, questa è l'educazione che mi ha dato mia madre. Naturalmente il messaggio di Miraglia. Sì. Noi da ragazzi esistevano a Sciacca tante squadre di calcio, ed erano squadre rionali, quindi c'era Loffane, la Carmeletana, la Portavagno, San Michele, e io, che da sempre ho avuto la passione di circondarmi di amici, di parlare, di chiacchierare, di programmare quando è possibile. Allora si programmavano le partite, avevo 13-14 anni, quindi nel salotto di casa mia ero riunito con i ragazzi e si parlava di questo incontro con l'altra squadra. ci disse all'autizio, non faccio nome, non è giusto fare no, all'autizio mi marco io, a così almeno in parte riscatto quello che suo padre ha fatto a noi. Finisce lì. Io ero, allora si chiamava centrocampista, il centro mediano, avevo la stazza che ho ora, e ovviamente negli anni 50-60 essere un mezzo 81 non era cosa da poco. Andarono via i ragazzi, mia madre mi chiamò, dice Nico, scusami, ci ho sentito che ti sei un po' entusiasmato, hai alzato la voce, hai detto delle cose che vorrei afferrare meglio. Se tu hai detto che il tizio te lo marcherai tu, così ricambierai, ricambierai, dice ma vedi che il tizio non ha nessuna colpa, sei il figlio di quella persona, anzi, tu hai un pregio nei suoi confronti, tu sei il figlio del martire, lui è il figlio dell'assassino, evita che quel ragazzo possa diventare un assassino come il padre, mettitelo accanto, fagli vedere quanto è bello il perdono e come è bello stare assieme e dimenticare le ingiurie fatte da altri. Io in quella partita ho giocato più che correttamente con quel ragazzo, finita la partita come si faceva allora, ne buttavamo lo tè fatto di casa, gli ho offerto il tè, ci siamo messi a chiacchierare, quel ragazzo non è mai diventato un mafioso. Questo secondo me è anche grazie a quella educazione che mi ha dato mia madre e a quell'apertura che io ho dato a questo mio coetaneo, che ha capito molto probabilmente che ci poteva essere un'altra vita oltre a quella che aveva indirizzato il padre. Io ne sono felice di questo fatto e da qui nasce anche tutta la mia voglia di essere sempre accanto agli ultimi, accanto ai familiari e anche accanto ai figli degli assassini. Non hanno paura. È giusto che le colpe dei genitori non cadano sui figli. Certo. Però noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare questi figli, perché se li lasciamo lì dove sono è logico che l'ambiente li porterà sempre ad avere come unica prospettiva quella del sistema del genitore o del sistema della famiglia. Come io amo tanto determinati personaggi che grazie a Dio abbiamo avuto nella storia, da Ritatri a tanti altri, Peppino Impastato, sono figli di mafiosi che hanno combattuto la mafia, perché qualcuno li ha aiutati, come Peppino aveva il responsabile segretario di rifondazione comunista che lo stimolava, non ad accanissi contro il mafioso, ma a dire che oltre alla mafia si può governare stando tutti assieme. Ed è quello che mio padre insegnò allora con la famosa cavalcata dove, prima di fare la cavalcata, mio padre impose, come facevano i romani, una specie di imbuto dove c'erano tutti i compagni di mio padre, come le forche caudine, e fece passare tutti i contadini da lì. E gli chiese, ad alcuni gentilmente, ad altri mettendogli le mani addosso, di posare tutte le armi. E i contadini di allora mi raccontarono che dentro il campo sportivo c'era una montagna alta a due metri, di bombe a mano, pistole, accetti, cutedda, fucili, di tutto. Perché mio padre gli ha detto a tutti i contadini che noi dobbiamo dimostrare cosa sa fare la società senza assolutamente opprimere, perché noi siamo un numero molto più numeroso di quanto possono essere gli altri. Per le strade di Sciacca non si vide un mafioso. La fotografia della cavalcata dove si vede mio padre che alza la testa è perché al passaggio di mio padre, che era in corso Vittorio Emanuele, tutte le finestre dei nobili e dei latifondisti si chiusero istintivamente e mio padre alzò la testa perché qualcuno sbatte le finestre quando vide arrivare la cavalcata di Accursio Miraglia. Voglio solo dire una cosa, e questa ci tengo, l'articolo 4 di questa legge 333 riguarda il Museo Antimafia. Ne abbiamo parlato con Salvatore, ne abbiamo parlato con Fabrizio. Noi abbiamo quasi 30.000 documenti dei servizi segreti che realmente cambiano la storia dell'Italia. Perché tutto quello che c'è stato detto nei libri di storia gran parte è solo bugia. Come è bugia che a sparare a Portella della Genestra è stato solo Salvatore Giuliano. proprio lui non sparò sui contadini. E noi abbiamo le prove che giorni prima della strage di Portella si riunì la cosiddetta banda Giuliano e molti dei banditi dissero a Salvatore, a Totò, che si è folle? Tu pretendi che io vada a Portella della Genestra a sparare sui contadini dove c'è mio padre, mio zio e mio figlio? Tu sei folle. Io non posso venire a sparare sui miei parenti o sui miei amici. Diciamo che Portella della Genestra fu l'antesignano della strategia della tensione che poi abbiamo conosciuto più avanti. Sant'è vero che ci siamo accorti che i feriti di Portella della Genestra che non avevano mai avuto un controllo medico legale, guarda caso, uno che ha ancora addosso, aveva perché adesso è morto, il proiettile che lo colpì ed era troppo vicino al cuore per essere operato, aveva un bossolo di Thompson, il fucile, il mitragliatore americano, non quelli che aveva Giuliano. Allora, siamo in conclusione, io vi ringrazio molto, perché la lotta alla mafia si fa con la conoscenza e quindi ricordare a Cursu Emeraglia significa far parte di un processo che combatte la mafia. La mafia non si combatte soltanto denunciando, naturalmente quello va fatto pure, ma si combatte attraverso la conoscenza. Noi dobbiamo lavorare verso la conoscenza. Vorrei solo aggiungere una cosa che ho dimenticato di dire prima, che un convegno conclusivo a maggio poi darà la premiazione ai migliori elaborati e profitto di questa trasmissione per invitare le altre scuole di Sciacca a partecipare tutte a questo concorso. Perché sarebbe assurdo, insomma, premiare ragazzi di fuori e poi non... Di dove si può prendere il sito? Il bando del concorso, intanto è stato inviato tramite gli uffici scolastici regionali, quindi tutte le scuole lo hanno avuto, però è nell'home page del nostro sito scolastico. E poi gli elaborati... I Tc Don Michele... No, non I Tc, I-I-S-S Don Michele Arena di Sciacca. E poi ci sono i riferimenti dell'email oppure della posta. Questo Sanfilippo, velocemente. Praticamente Miraglia chiude un episodio importantissimo della storia d'Italia, in particolare della storia del Meridione. Qual era stata la storia del Meridione dall'unità d'Italia? La terra ai contadini. Questa terra ai contadini. Non si poteva dare, nel 1866, con la legge relativa, non si poteva dare, e finisco, non si poteva dare con i fasci dei lavoratori siciliani, 1893-1894, con la ribellione, la protesta dei contadini, come fu fatta nel 1846, prima di morire, il motivo per cui è morto Miraglia. Non si poteva fare nei primi... Con Nicolò, con Nicolò, Licata, si fece un poco solo a Ribera, e si fece a Caltanissetta, con Dosturzo. Quindi, che cosa voglio dire? Voglio dire che Miraglia, considerato il favore nuovo di Zecca, dello Stato repubblicano, che si espresse con la legge, col decreto Gullo-Segni, Miraglia, poté avere dalla sua questa apertura statale, che però fu contrariata al massimo dai proprietari, cioè dagli agrari azienteisti. Grazie, professore Sanfilippo, grazie anche all'assessore Monte, che non faccio più intervenire, perché non ho più tempo. Permettetemi di ricordare, di dedicare questa trasmissione alla memoria di Maria Rosa Cucchiara Miraglia. Lei si faceva chiamare Maria Rosa Cucchiara Miraglia. Bellissimo. Quindi per... Mia cugina. Cugina di Nico Miraglia. Bellissimo. È una persona che ricordiamo con grandissimo affetto, che non c'è più purtroppo da qualche anno, ed è alla sua memoria che dedico questa trasmissione. Grazie. Grazie.